Il messaggio dei Cavalieri in quest'occasione è il tuo panino. Il messaggio dei Cavalieri è l'unione basata sulla diversità, per cui abbiamo cercato di utilizzare lo stesso pane che ricalcava un po' il processo dal nord al sud, con stili e battute completamente diverse, cercando di attingere a quello che è il nostro patrimonio territoriale. Personalmente ho presentato una bruschetta morbida con un baccalà mantecato all'olio extravergine d'oliva, una battuta di scampo, un profumo di aneto e la polvere di nigella. Dopo gli spaghetti e il panino cosa ci aspettiamo alla prossima volta? Tanta libertà!